Ai nostri microfoni Marcello Olivieri, presidente dell'associazione Teramo Vivi Città, in quanto la sua associazione torna ad affrontare il problema relativo all'abusivismo nelle affissioni pubblicitarie. Cosa denuncia in particolare? In particolare denuncio le mancate promesse di questa amministrazione, perché nel programma del sindaco c'era la lotta all'abusivismo, mentre invece grazie a questa amministrazione le affissioni abusive sono tornate, molto più forti di prima, più consistenti e addirittura si autorizzano anche le paline vietate dal codice della strada. Un'amministrazione che nel primo bilancio non poteva fare di peggio, visto che la precedente amministrazione Chiodi aveva fatto un grosso lavoro, grazie a noi e grazie all'ex assessore Micheli, in merito alla lotta all'abusivismo. Adesso abbiamo fatto un passo indietro. Quali sono le strade interessate da questo fenomeno? Ma è tutta Teramo, tra le affissioni murali abusive, i cartelloni del circo abusivi e i pali della luce, vietatissimo, e oltre a dei 6x3 abusivi dove ci sono degli esposti, ma comunque visto che questa amministrazione pensa di avere le chiavi del paradiso in mano, io dico che si sbagliano perché entro 15 giorni ci saranno delle denunce alla Procura della Repubblica e ci consideriamo parte civile, perché l'amministrazione non combattendo l'abusivismo, anzi per certi versi, non dico che l'autorizza, ma non risponde, rimane passiva, non fa altro che favorire anche la concorrenza sleale, quindi un danno a quelle aziende che a Teramo pagano le imposte pubblicitarie.